TorinoG.it insaccabilmente in onda qui da Peperò siamo all'edizione numero 69, Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e un brindisi ci va, un brindisi ed obbligo e lo facciamo qui insieme alla cantina Produttori di Govone che quest'anno ha davvero sbancato le vendite perché? Perché c'è una tendenza curiosa che si va affermando quindi non si ordina solo un bianco o un rosso ma si fa il bis, l'accostamento, quindi il brindisi bicolore con queste due etichette? Sì, con l'Arnaise della Teresa Vaude e con la Barbera Borbonica Superiore d'Alba che ha vinto anche addirittura diversi premi sia a Merano che in giro per l'Europa la gente legge su internet, trova tutto questo e con piacere viene qua da noi e ci chiede queste due tipologie di vino Esatto, come sta dicendo Marco, i consumatori tipo di Peperò, i visitatori, cioè voi sono clienti davvero molto informati, arrivano qui preparati e quindi vogliono giustamente fare il bis con Arnaise e Borbonica provateci anche voi e soprattutto continuate a seguirci su torinooggi.it